carissimi come va nel video precedente vi ho insegnato come chiedere informazioni in italiano ma ovviamente saperle chiedere non è sufficiente bisogna anche riuscire a capire le indicazioni che ti daranno ed eccomi qui per aiutarti se ti dicono vai sempre dritto vuol dire che sei sulla strada giusta e sei sempre detto ma se ti diranno torna indietro devi prendere la direzione contraria vuol dire voce para tras ora fa attenzione se ti dicono volta a destra non c'è geser che você deve voltar pra gireita voltare in italiano è virar perciò volta a destra oppure gira a destra vuol dire viria gireita e il contrario è gira o volta a sinistra se sei in macchina è bene sapere che devi fare un'inversione vuol dire voce tenchi fa zero retorno nel prossimo video vedremo insieme alcuni punti di riferimento che ti aiuteranno a orientarti grazie mille ci vediamo domani con un nuovo video grazie mille grazie mille Grazie a tutti